Abbiamo spiegato tutte le difese a tutela di due calciatori, adesso la Corte di Giustizia deciderà, dobbiamo aspettare seriamente, i ragazzi sono stati eccellenti anche davanti alla Corte, hanno spiegato le loro ragioni. Ma le sembrano due giudizi equi per entrambi? Se abbiamo fatto ricorso evidentemente non pensavo possibile. Quindi per entrambi è ricorso? Per entrambi è ricorso, assolutamente per entrambi. Quando ci rai avvocato a comunicare? Secondo me in serata, non prima delle 18.